Sono stato anche 10 partite senza segnale, voglio dire, non è stato facile per me. Io ando a raccontare che sono entrato a Firenze, mi hanno aperto, mi hanno ricevuto benissimo a casa Viola, però mi hanno fatto dormire la prima notte in Giavole. E oggi posso parlare che dopo 20 anni o 30 o spero che tra 40, continuate a invitarmi al salone proprio della casa.